In archivio la 75esima edizione del Trofeo Matteotti, la classica internazionale per professionisti. Ad imporsi è stato l'olandese Bax che ha battuto in volata, la state vedendo con le immagini girate da Diego Martelli, il campione italiano Simone Velasco e Lorenzo Rota. La gara si è disputata sul tradizionale circuito cittadino di 195 km, ovvero 13 giri di 15 km ciascuno, tra Pescara e Montesilvano e ha visto la partecipazione di 124 atleti. Al Via della Corsa erano presenti anche i corridori abruzzesi Giulio Ciccone, che ha provato il colpo a sorpresa nell'ultimo strappo di Montesilvano Colle e Dario Cataldo. Dopo la picchiata su Pescara, Bax e Rota hanno colto l'attimo per sorprendere il gruppo a 5 km dall'arrivo. In vista dell'ultimo chilometro si sono un po' guardati rischiando di farsi riprendere, ma Bax ha calcolato alla perfezione i tempi andando a prendersi il successo dopo aver conquistato l'anno scorso la Coppa Agostoni. Ed ora sentiamo proprio il vincitore e gli altri due corridori che hanno completato il podio. Sì, la prima volta è una rossa veramente difficile, ma anche una rossa molto bella. E cosa su questa rossa? Can you tell usci qualcosa di rossa? Sì, è difficile dal primo giorno. Tutti la partita con il rossa, sui punti, sui punti, sui punti, sui punti. Non so mai rossa e poi è solo a cuore dei piedi all'ultimo. Come al solito il Tapeo Matteotti è sempre una corsa esigente e impegnativa, ero già arrivato davanti a giocarmi la vittoria più di una volta e oggi siamo andati veramente vicini, è mancato poco, un secondo post con un po' di amaro in bocca, un po' perché mi piaceva onorare la maglia di campione italiana e quella della nazionale, però dai la condizione continua ad essere buona e ci riproveremo ancora nei prossimi anni. Sì sicuramente è una bellissima corsa, complimenti a Stefano per l'organizzazione, dai penso che sia stata una bella giornata di sport qui. Contento per questo terzo posto o pensavi in quell'arrivo di poter fare qualcosa di meglio, non era facile però? No, sono abbastanza soddisfatto perché arrivo da un periodo un po' così così, sono tornato dal Canada la settimana scorsa e non ero al top, quindi oggi ci tenevo a dare un segnale e penso che l'ho dato, quindi va bene così.